E' molto difficile lavorare con questo governo che riempie i giornali di annunci, di tweet, di messaggi, ma poi alla fine non manda i provvedimenti in aula. Sapete quante volte si riunisce in questa settimana l'aula di Montecitorio? Zero. Cioè non hanno argomenti, non hanno punti ad ordine del giorno. E non è colpa dei deputati, è colpa del governo che non fa niente di ciò che ha promesso, voglio fanno i bagni in piscina, vanno al paleo, fanno annunci storici, oggi è un giorno storico, anche oggi è un giorno storico, sempre tutti i giorni c'è un giorno storico, ma poi nella sostanza alla Camera dei Deputati zero minuti di lavoro in questa settimana. Noi invece al Senato ieri ci siamo riuniti, abbiamo iniziato ieri pomeriggio, abbiamo votato uno degli ultimi provvedimenti del governo a Gentiloni.